Ma poi più che altro ragazzi Ho un nuovo youtuber preferito Ho un nuovo youtuber preferito Ho un nuovo youtuber preferito che Probabilmente conoscete pure voi Sono sul pezzo da tanto Ma sono diventati famosi ultimamente Sono primi in tendenza Secondi Grazie Yuri per l'anno Ciao amici di Youtube qui con voi E ciao le mummo Oggi ragazzi siamo È lui questo qua Grazie Bombardino Oggi nuova reaction è in Polinato Sono qui in compagnia di mio padre Frango Ma pure fino alla morte C'è il magnan L'ha già visto Il ritorno pasquale Ciao ragazzi Abbiamo anche Cristian E come ospite speciale il nostro moderatore Il nostro amico Il nostro fratello Raffaele Pio Balzani Buon pomeriggio a tutti ragazzi E forza l'anno Raffaele Pio Balzani Ovviamente vi invito a scaricare l'app di OneFootball Mi raccomando Trovate l'app In descrizione del primo link Ai rights della serie A Serie B Partite della serie C Dai Raffaele Pio Balzami C'è Voglio solo una Ah guardate Ma parca si deve pagli Ma si è avvicinati Che fai cerca Cerca Grazie Grazie Che poi quando fa le gag Raffaele Pio Balzani C'è Raffaele È in chat Ciao caro Ma sei tu veramente Non credo sia tu Sono io Buongiorno Adesso sono tutti Sono tutti lui Guarda che cerca L'approvazione del gruppo Mamma mia Ma guarda là Che ruolo Fabio Arruzzo Guarda lui Ma non lo so Ma io non lo so Non lo so E si passa la palla Fabio Arruzzo Assolutamente da mandare via Ragazzi È il mio preferito Grazie Ciao 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 Polletto Ma ultimo Cosme Mi sa Annamma 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 Buona palla Alzati Buonasera Ciao Polletto Dera Amaci Lo hai dì Al limite Non può calciare Li guardato Viti Fabiano Buone l'amore Mannazzo That's it Help me Cuore del soffio Che pu... Che pu... È un... È un escaletto Oh 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 ma tutto il loro gruppo tutto il loro gruppo grazie per il ricordo un bacio è sempre grazie al cazzo tutto il loro gruppo mi piace però se evidentemente ognuno si fa i cazzi suoi lui vuole farsi vedere più dal vuole far starsi simpatico in merita anche se stiamo giocando male finisce il primo tempo 1 a 0 per il napoli iniziato il secondo tempo dai momenti prima della tragedia tira di sinistro tira di sinistro tira di sinistro bravo 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 grazie a tutti grazie Turlo grazie per l'anno adesso iniziano a lei non sape cosa stava per succedere non sape non sape non so cosa abbiano detto ciao ciao ma non facciamo spruzzare ma non facciamo spruzzare ma mandano 10 minuti ma dai ma non ci mettiamo ma perché eh ragazzi a volte non stiamo scherzando ma raccomando ma che fai ma che fai come ti butti sono noi sono noi sono noi grazie Renzo ma che fai ma che fai grazie Renzo è possibile no ma io facciamo ridere facciamo ridere le persone facciamo ridere le persone mi ha detto no non si è venuta la partita mi ha detto non ci fa niente non è lì ma è lì non ci fa niente guarda ragazzi ragazzi mi ha detto ma che cavolo ma vattene ma vattene ma vattene ma non si prende un squir grazie Grazie, questi sono i veri reactioners, ragazzi, che mi piacciono. Vorrei diventare del Napoli per stare con loro. Ma non sarà, non sarà così stoppa Vallettino, non sarà così stoppa. Perché poi ognuno ha la sua personalità, e poi impazziscono tutti a caso. Grazie, Smart Locks. Metti malato del Napoli. No, ma se... No, no! No! Ciao, Valletta. Ciao, bella. E c'è, l'inseguibile. Gli ignoranti, scassi. Non si la degna. E io non la faccio, non la faccio, non la faccio. Da 6 minuti, 3 gol all'Empoli. Da 6 minuti, 3 gol all'Empoli. Lui ci ammerdiamo, manca c'è. Lui ci ammio, 3 gol all'Empoli. Lui manco, 3 gol all'Empoli. Grazie, attenzione, 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 squadra a metà classifica. Quando tornerai a fare le live di cucinamento, a metà, la Sanitana ne pigiava tre gol all'Empoli da 6 minuti. Ho caggia ne pigia tre gol all'Empoli da 6 minuti. Noi sì, noi sì, e allora vado a mettere scorno. Il ragazzo con gli ucchiali che trattiene la risata per tutto il video. Questa l'ho capita. Questa l'ho capito, grazie, Gabriele. Grazie per i due anni. Grazie Nicolo. Forza il Napoli. E' gopia. Castellani, butta via il doppio vantaggio, ritrova il successo l'Empoli, che non aveva ancora raccolto tre punti in una sola partita. Ma ne avevano fatto un altro. Come si chiamano? Shale Boom. Oh. Oh. Ok. Vediamo. Eh. Ma c***o. Mannaccia, che è da bocchino. Ma questoEh, grazie. Mummaris. Ma c***o è la sua? Ahi no lo so. Ma non lo so. Ma lei è fa tutto, sì, di più. Una stagglia. C****ocelo. grazie a poverino al bambino è il momento della canzone grazie a chita morta andiamo avanti grazie a tutti